Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul canale. Oggi andremo a parlare di mantenitore di batteria. In questo caso andiamo a parlare di questa marca che si chiama Optimate, che è poco conosciuta sul web, perché vedo molte recensioni di altre marche appunto di mantenitori, ma queste ne vedo veramente poche. E ho deciso di portarvela sul canale perché io ne possiedo uno, l'Optimate 3, questo è l'uno. Lo possiedo da circa 5 anni e mi sono trovato benissimo, non mi ha mai dato nessun tipo di problema ed è molto affidabile e molto semplice da utilizzare. In confronto ad altri mantenitori che ho trovato online su Amazon, che bisogna scegliere il tipo di carica manualmente. Invece in questo caso il tipo di carica viene riconosciuto in automatico. Allora, questo tipo di caricatore funziona con tutti i tipi di batterie, quindi piombo acido, gel, litio e appunto come dicevo prima li riconosce in automatico. L'Optimate 1 è il più piccolo della sua categoria. Nel loro catalogo ce ne sono veramente una marea per qualsiasi tipo di veicolo, sia a 12 che 24 volt. E l'unica differenza che varia da questi dispositivi è l'amperaggio. Naturalmente, se si ha un veicolo piccolo, come raffigurato qui, una moto, uno scooter, un quad o una moto d'acqua, si può utilizzare questo che carica 0,6 ampere. Poi, naturalmente, per esigenze più ampie, quindi come un'auto o un furgone, comunque con degli amperaggi abbastanza elevati, si possono scegliere gli altri tipi di mantenitori che trovate in gamma sul loro sito. Comunque vendono anche su Amazon. In questo caso ci soffermiamo sull'Optimate 1, che è quello che ho deciso di affiancare al mio scooter, di cui state guardando i video online. Adesso lo spacchettiamo insieme e andiamo a vedere il suo contenuto. Innanzitutto vi faccio vedere la scatola. Qua ci sono le caratteristiche e i vari montaggi per i morsetti. Adesso andiamo a vedere anche all'interno la dotazione che viene fornita all'interno della confezione. Ok, qui troviamo il mantenitore. Funge da mantenitore per tutti i tipi di batterie, quelle che vi ho elencato precedentemente. Poi, se vogliamo scaricare il manuale, basta inquadrare il QR code per sapere tutte le informazioni di questo mantenitore. Da un capo troviamo la spina classica italiana e dall'altra troveremo il morsetto proprietario, dove noi possiamo affiancargli il collegamento diretto alla batteria. Quindi con positivo e negativo andiamo a collegarle alla batteria e dall'altro lato, coperto da un pratico gommino per non fare entrare liquidi, andremo a collegare il nostro spinotto. In questo caso utilizziamo questa connessione se vogliamo fare una connessione fissa e quindi tenerci lo spinotto a portata di mano in modo da non dover utilizzare sempre i cocodrilli che adesso vediamo. Qua, tra l'altro, c'è un fusibile da 15 Ampere, è dotato di fusibile e portofusibile, o se no, per una connessione un pochino più più blanda senza stare a collegare appunto i morsetti, abbiamo i classici cocodrilli, quindi positivo e negativo alla batteria e dall'altro lato andiamo sempre a connetterci con il mantenitore. La cosa bella di questi mantenitori è che hanno tutti la stessa spina, quindi io adesso sono già in possesso del Optimate 3, quindi io potrei caricare con questo mantenitore la batteria dell'auto e viceversa, quindi caricare la batteria dello scooter con il mio Optimate 3 che appunto è attaccato a parete come si può collegare anche questo. Se vedete ha due asole è molto comodo, io l'ho attaccato a parete in modo che lascio solo questo filo qua penzolante e quando mi serve lo vado a collegare alla batteria. Piccola interruzione pubblicitaria, vi faccio vedere comunque come ho montato il mio Optimate 5 qui a parete come potete vedere. Appunto è stato montato lì a parete con una ciabatta di fianco dove io andrò a collegare la corrente e la mia auto visto che è in questa posizione andrò poi ad aprire il cofano e lì c'è situata la batteria nell'angolo a sinistra vado a collegare lo spinotto che vedete lì penzolante direttamente alla batteria. Adesso non ricordo se nel video vi avevo detto l'Optimate 3 ma questo qua è un Optimate 5 e come vi ho già accennato mi trovo benissimo e dopo 5 anni non mi ha mai dato nessun problema. Vi lascio al continuo del video. Per finire questa recensione vi posso garantire che questi prodotti sono prodotti affidabili e Optimate i prodotti li fa da veramente tanti anni ed è una marca veramente veramente affidabile e non c'è bisogno di fare nessun tipo di settaggio sul mantenitore e basta solo collegarlo alla spina della corrente e alla batteria della vostra auto o del vostro scooter moto o camion o chi che sia e farà tutto in automatico. Naturalmente guardate bene che tipo di mantenitore fa al vostro caso in base alla batteria che avete. Ve lo consiglio e questo è tutto per la recensione di oggi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!